Qualcuno si sta divertendo in quella finestra Buon per loro Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Saint Tro Uno, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate che i Carnales stanno cercando di fare gli stronzi nelle nostre zone Bene, noi continuiamo a fottegliere dei altri I vecchi classici non muoiono mai Sentiamo Duh Ok Insomma Vai là ma cerca di fare il meno casino possibile Va bene, ci sto Ragazzi Sul furgone, forza Carica Dai dai sali E dai Io invece Ho paura che l'imboscata non sarà per loro ma sarà per noi Mamma mia che dettagli che c'aveva sto gioco Salve, sono arrivato Ho una consegna per voi Maledetti Carnales Ora vi facciamo un culo così Salve, troie Che scommatona Hello bitches Hello bitches Allora, con calma Che se no qua è un casino Cercate di morire il meno possibile Mi raccomando Vi voglio tutti belli carichi Voglio più gente possibile in questa missione Sappiatelo Aspetta Dove sei? Fucilozzo a pompa Dio mio è potentissimo sto fucile Cavolo, a sapere che era così potente lo prendevo da subito Vabbè che tutti i fucili a pompa son buoni Se li usi da Una distanza Ragionevole Ho esagerato forse Io direi di no Io ti direi anche che Ho fatto benissimo a farli esplodere Ecco fatto Madonna mia Sto facendo saltare in aria tutto Aspetta Attenzione là sotto Ecco Appunto Stavo giusto dicendo la frase Attenzione Chi è che è caduto? Tu sei caduta? No Chi è caduto? Lui è caduto Eh qui 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 Eh aspetta che smetti di andare a fuoco Aspetta Uno e due Perfetto Dai dai Madonna Troppo Troppa gente sto uccidendo Con un colpo solo di sto fucile È potentissimo Aspetta Granata Beccatevi questo Stronzi Ma stai buono Tu stumi Sto mitra Da dove siete entrati Scusami Ecco fatto Torna su Tutto sotto controllo Ok stava caricando un po' troppo Che voce hai sentito Che voce hai sentito? Che è eso? No, eso non è un problema Uno di nostre carriera Sì che potrebbe Cutter la shit Out of his deliverance Se sembra che Siamo missing A molti prodotti E' davvero Era proprio questo Spendejo Ehi Angelo Togli E i droghi? Found Che cosa Questa gang Da Saints Row Un po' di mulas Un po' di lucenti Niente più Il mio padre L'hanno matato Lli tutti Adesso Sono non mio padre L'ho notato No Vieni dentro Stronza Porca troia Che brutta figura Che ho fatto Merda L'abbiamo fatto incazzare Direi proprio gli si Missione compiuta 4200 dollari 21 su 36 Non manca molto Per la conquista totale C'è da dire Che comunque Quella Cos'è stato? Ah il furgone C'è da dire Che comunque Se entro uno Ha un sistema Diciamo Molto diverso Di conquista Dei territori Rispetto A centro 3 Non mi ricordo Il 2 Perché il 2 Dall'1 Cambia molto Ma per la conquista Di tutti i territori In centro 1 Basta che ti fai Tutte le missioni A quanto pare In centro 3 Almeno Nel 2 Non mi ricordo Come vi stavo Dicendo Bisogna fare Anche tutte le missioni Secondarie Se vuoi conquistare Tutte quante le zone Che bello Avere tre persone Ora Ora siamo veramente Una forza armata Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti